Benvenuti, benvenuti in Rubrica Notturna, canale che parla di true crime. Rubrica notturna dalla voce a chi la voce non l'ha avuta nemmeno per difendersi. A volte nella vita ci capitano quei momenti, quei periodi oppure tutta la vita intera dove abbiamo tutto, successo sul lavoro, amici, soldi, tutto e sembra che niente possa andare storto ma questa bellissima condizione può farti diventare un bersaglio. Sigla Benvenuti nella prima indagine della Maratona Rubrica Notturna. Da oggi per i prossimi sette giorni vi faremo compagnia con una nuova indagine. Questo è un appuntamento che si ripeterà per tutta la settimana. In questa indagine parleremo di Christian. Christian vive a Meridian che è la sesta città più grande del Mississippi. Viene descritta come una città ideale per le famiglie. Qui si trovano ristoranti dove si può mangiare della buonissima carne alla griglia e bere anche della birra. E poi ci sono delle zone dedicate completamente allo shopping dove si trova veramente di tutto. E poi ci sono diversi musei d'arte e i teatri. Il primo sabato di ogni mese vi è sempre un mercato e qui si possono trovare tutti i prodotti delle aziende locali. Davvero una cosa molto carina. Ma ora parliamo di Christian e conosciamo meglio la sua storia. Christian è un ragazzo che piace davvero tutti. È intraprendente, spiritoso, gli piacciono le sfide. Ogni volta che si mette in testa qualcosa lui deve riuscire a raggiungere il suo obiettivo. Ecco perché ad appena 18 anni diventa uno dei capitani più giovani del porto di Magnolia. Insomma Christian è davvero bravo in quello che fa ed è anche molto ambizioso. È una persona molto origine a lavoro. Quando gli vengono chiesti degli straordinari è sempre disponibile. Quando gli viene chiesto di sostituire un turno anche. Ed è per questo motivo che lui ha fatto carriera molto molto velocemente. E poi Christian guadagna anche molto bene. Tant'è che ha due auto e anche una moto d'acqua. Però Christian non fa pesare la sua situazione agli amici. È una persona molto semplice e disponibile con tutti. Christian ha anche una sorella di 13 anni. Insomma va d'accordo con tutti, ha una bella famiglia. La sua vita va davvero alla grande. Però se ne parliamo in rubrica notturna è perché purtroppo le cose non andranno sempre bene. La parte romantica invece per Christian non è così semplice. Lui adesso sta con una ragazza che si chiama Whitley Godman. Aveva avuto prima un'altra ragazza con cui aveva diviso, condiviso diverse esperienze nella sua vita e che conosceva fin da quando era bambino. Però le cose con lei non sono andate bene. Insomma la precedente relazione di Christian non è andata bene perché a causa del suo lavoro lui è spesso fuori casa. Anzi sta via tutta la settimana e dunque la fidanzata di prima non aveva retto questi ritmi. Ha un altro temperamento. Whitney è uno spirito libero, è vivace, allegra. Non l'afferma nessuno e anche se non vede tutti i giorni Christian a lei va bene lo stesso. C'è anche da dire che Whitley ha solo 17 anni quindi è uno spirito libero. Whitley però ha avuto un'infanzia piuttosto difficile. Sua madre non era una persona molto premurosa e molto affettuosa e per questo spesso veniva trascurata, lasciata a se stessa. Fa un po' quello che le pare insomma. La famiglia di Christian invece è tutto l'opposto. Sì perché vanno d'accordo, passano un sacco di tempo insieme, si confidano le cose e quindi Whitley si troverà all'interno di una realtà a lei sconosciuta. Sentirà affetto, sentirà partecipazione. Ed è proprio per questa differenza di unità familiare che a un certo punto i genitori di Christian si dispiacciono di vedere questa ragazzina un po' abbandonata a se stessa. Per questo motivo la inviteranno a vivere in casa lì con loro. Whitley alla famiglia di Christian appare tranquilla, pacata, ben educata. Però le cose piano piano iniziano a cambiare e addirittura dopo appena un mese Whitley sarà cacciata di casa. Ma perché i genitori di Christian arriveranno a tanto? Ebbene la risposta è semplice. Pensate, Whitley inizierà a pubblicare sui social delle cose folli. Dirà per esempio che cucinano sostanze lei e Christian. Insomma cercherà le attenzioni degli altri e dirà cose ovviamente che oltre a non essere vere non sono neanche legali. I genitori non possono tollerare un comportamento di questo tipo e rischiare anche che la nomea di questa famiglia venga rovinata per una ragazzina che non sa gestire le proprie reazioni. Quella che le è sempre mancata. Ora, perché Whitley si comporta così? Ha trovato una famiglia che vuole prendersi cura di lei e un ragazzo che la ama moltissimo. Whitley ha solo 17 anni e non teme le conseguenze di ciò che fa. Addirittura comincia ad avere dei comportamenti estremamente bizzarri. È gelosa delle attenzioni che Christian riserva alla sua sorellina. Questa gelosia la porterà a mettere nei guai la piccola sorella di Christian. Lei dirà addirittura che l'ha vista fumare in modo da generare nella famiglia dei comportamenti di rimprovero o addirittura di punizione verso la ragazza. In più era molto molto gelosa del fatto che Christian tenesse ancora molto alla sua ex ragazza. Rae, la madre di Christian, dichiarerà addirittura che una sera Whitley si presenterà di punto in bianco nella loro camera da letto perché doveva assolutamente farle vedere una foto e quella foto era della fidanzata precedente di Christian. Insomma, Whitley è davvero gelosa patologica. Ovviamente i genitori non si vogliono mettere in mezzo questa situazione anche perché ora Christian ha deciso di stare con lei e questo comportamento lo trovano davvero molto immaturo. Insomma, i suoi eccessi mettono davvero la famiglia completamente a disagio ed è per questo che si arriverà poi a una rottura così immediata. Pensate, un giorno Christian arriverà addirittura dai genitori a chiedere un consiglio. Stava pensando se era il caso di aggiungere Whitley alla sua assicurazione per la vita. Eh sì, perché così aveva fatto con la sua fidanzata precedente. Ma i genitori ovviamente a quella richiesta sbiancano. Non possono credere che Christian abbia potuto pensare a una cosa del genere. In fin dei conti, con la ragazza di prima si conoscevano fin da bambini. C'era un'estrema fiducia e Whitley invece la conosce da troppo poco tempo. Non possono accettare che Christian faccia una cosa del genere. C'è anche da considerare poi la giovanità di Whitley. Ha soltanto 17 anni e ha già dimostrato di essere veramente poco poco matura. E lei però insisterà davvero tanto. Non capisce perché se la fidanzata di prima poteva aver avuto quella agevolazione, perché non poteva avercela lei? E a questo punto lei è davvero costretta a lasciare la casa di Christian. Lui ovviamente la seguirà. È innamorato di Whitley. Purtroppo di Whitley nessuno ne parla bene, neanche i suoi amici più stretti. E quando Christian parte per i 30 giorni fuori mare di lavoro, lei che cosa fa? Esce con altri ragazzi e praticamente utilizza tutte le sostanze che sono alla sua portata. Whitley ha un lavoro. Ci va con l'auto di Christian e sicuramente usa i suoi soldi per comprare determinate sostanze, perché solo con i suoi non ce la farebbe a fare tutto questo. Lui è al corrente della situazione e gli intima subito di smetterla. Le dice che quando tornerà la caccerabbia di casa, se lei fallirà, il test antidroga al quale lui ha deciso di sottoborla al suo rientro a casa. Nonostante questo però Whitley non ne vuole sapere di cambiare. È abituata a fare quello che vuole e poi è cresciuta senza una vera famiglia che la supportasse e la guidasse. Il 22 febbraio Christian riprenderà il lavoro e dovrà trasferirsi di nuovo al porto per poter salire sul rimorchiatore dove starà per circa 30 giorni. Quindi lascia Meridian dove abita con l'auto e percorrerà circa due ore di autostrada prima di raggiungere il posto dove di solito parcheggia per poi imbarcarsi. Ci troviamo a Wicksburg in Magnolia dove c'è il porto. Dunque Christian parcheggerà la propria auto all'interno del parcheggio che tra l'altro rimane sempre aperto, tenete a mente questo dettaglio, e poi si imbarcherà. Quando è in nave ovviamente non può pensare di tornare a casa. Sono attività svolte in pieno oceano. È obbligatorio per chi vi lavora sopra allontanarsi da casa per un certo periodo di tempo. È il 25 febbraio. Sono trascorsi solo pochi giorni da quando Christian si è imbarcato che capita una cosa piuttosto strana. Continuerà a ricevere delle telefonate da Dylan, un suo amico che frequentava insieme a Whitley. Lui si trova rimarchiatore e si sente a disagio nel sapere cosa Dylan ha da dirgli. Dylan, che fa praticamente parte del gruppo, loro tre con Whitley escono spesso insieme, gli dirà che deve fare assolutamente ritorno a casa perché Whitley sta guidando senza autorizzazione la sua BMW. Ma non finisce qui perché oltre ad andare in giro con la sua auto pare anche che stia frequentando uno dei maggiori spacciatori della zona. Questo tizio si chiama Matt. Christian ovviamente è molto deluso ma ha già capito come andrà la storia con Whitley. È troppo ragazzina, è troppo immatura e sa già che è impossibile che ci sia un futuro per loro. Così dirà Dylan di andarlo a prendere il 26 febbraio perché il rimarchiatore si sarebbe fermato il giorno successivo a New Orleans e lui l'avrebbe aspettato al porto. Il giorno seguente Christian racconta al lavoro che a casa sua c'è una situazione complicata di litigio fra il padre e la madre e che deve tornare immediatamente. Dunque ottenuto il permesso si mette d'accordo con Dylan e lascia la nave. Lui non sa che quella è l'ultima volta che vedrà quella nave e non ci tornerà mai più. Dunque Dylan prende Christian alle 8 del mattino del 26 febbraio. Direzione casa. Intenzione di Christian? Cacciare via subito Whitley. Era esasperato, non ne poteva più. Avrebbe così concluso e sistemato questa brutta situazione e sarebbe il giorno stesso tornato al lavoro. Tuttavia qualcosa andrà storto perché Dylan chiamerà il 911, il numero di emergenza, e lo farà alle 4 e 30 di quello stesso giorno. Dirà all'operatore che Christian è stato trovato morto all'interno del suo bagno. Ma cerchiamo di capire bene che cosa è successo in questo momento così confuso. Praticamente Christian verrà trovato accasciato nella sua vasca da bagno. Si presentano sulla scena gli soccorritori e ovviamente i detective. E men che non si dica, si troveranno lì 25 persone. Praticamente la stanza pullola di persone che vanno e che vengono e in meno di un'ora quel caso verrà classificato come sui video. Un po' frettoloso, non trovate? Ma vediamo meglio la scena che si presenta davanti ai detective e ai soccorritori. Come abbiamo detto, Christian è piegato in due dentro alla sua vasca. Praticamente le sue braccia sono però all'esterno della vasca, mentre i piedi sono incrociati uno sull'altro. Cercate di capire bene questa posizione perché sarà molto importante ai fini di questa indagine. Ovviamente la foto la potete reperire da web. Noi abbiamo preferito non farvela vedere perché ci sembrava poco rispettoso. Ma andiamo avanti. Pare dunque che Christian si sia tolto la vita con l'uso di una pistola. La ferita di ingresso si trova proprio a destra sopra all'orecchio, mentre la ferita d'uscita si trova dalla parte opposta ovviamente. Quello però che appare strano è che il colpo sarebbe dovuto rimbalzare all'interno della vasca da bagno. Invece al suo interno non vi è nessun segno della presenza del proiettile, ma si troverà un buco, una fessura sul muro, proprio dietro Christian, però all'altezza di una presa elettrica del bagno. Tuttavia non sappiamo se quel buco era stato fatto dal proiettile perché non sarà mai esaminato. Sì, avete capito bene, nessuno esaminerà mai quella traccia. Però la punta del proiettile è davvero schiacciata come se avesse colpito un muro. Ora entriamo nel bagno di Christian. Lavandino alla sua destra, seguito dal water, la vasca da bagno in fondo. È un bagno molto piccolo, ok? Una delle cose più strane riguardo alla posizione del corpo è stato dove è stata trovata la pistola. Abbiamo detto che il colpo è stato sparato alla tempia destra, però la direzione della pistola sarà girata dalla parte opposta, sotto al fianco sinistro. C'è da considerare però il rinculo della pistola che spara e poi questa avrebbe dovuto trovarsi fuori dalla vasca, invece è sul lato opposto. Dunque, considerando tutte queste dinamiche, la pistola da solo non se la poteva puntare. Il sangue verrà trovato molto coagulato, quindi significa che Christian era morto parecchio tempo prima. La pistola è una semi-automatica Kimber e sarà trovata con il cane, ovvero quel gancio che si trova sopra alla canna, ecco, quello era stato armato, ovvero era stato tirato indietro e quella cosa la puoi fare solo manualmente. Quindi, come fa Christian ad essersi sparato e poi cadavere aver riarmato il cane? Non è fattibile. Dunque, pare proprio che la pistola che ha ucciso Christian non possa essere quella che è al suo fianco. Proprio perché la posizione del gancino in alto era rimasta ancora in tensione, non aveva fatto partire il corpo. Le autorità comunque prenderanno il bossolo e il proiettile e pensate, questi saranno gli unici elementi che prenderanno su questa scena, ma non finisce qui. Qui arriva una delle parti più assurde che ci hanno fatto veramente rizzare i capelli quando l'abbiamo letta. Praticamente i genitori di Christian, quando sono entrati nel bagno, hanno trovato dietro al WC una maglia intrisa di sangue e i detective non l'avevano neanche notata. Ma da dove veniva quella maglietta sporca di sangue? Era di Christian? Qualcuno gliel'aveva tolta per asciugare le tracce di sangue che erano evidentemente in giro per il bagno? Oppure il corpo di Christian era stato spostato perché la posizione del suo corpo non combaciava con la dinamica di come era stato trovato? Forse allora che in quel bagno c'era stato l'assassino di Christian e sapeva che tanto i controlli non sarebbero stati fatti? Sono tante le ipotesi, non si riesce a capire, non possiamo darvi una risposta ora. Anche perché i genitori di Christian in cucina avevano fatto una scoperta davvero assurda, tra le posate del cassetto c'era un coltello sporco di sangue. Di chi era quel sangue? Vi rendete conto? Sono due genitori distrutti dal dolore che devono trovare le prove dell'assassinio di loro figlio e portarli loro stessi alla polizia perché la polizia è venuta, ha fatto solo un gran pasticcio e non ha raccolto i dati che servivano. D'altronde per loro si trattava di suicidio, forse allora è stata incompetenza quella di non approfondire e dare le cose per scontato. Andiamo avanti e cerchiamo di capirlo. è la scena del crimine e non si sa come la polizia possa chiudere il tutto con la parola suicidio. Il fratello di Christian poi dovrà ripulire il bagno. Voi pensate dopo un trauma del genere doversi mettere in bagno a tirar su il sangue della persona che tu ami e non c'è più. Dagli anni 90 invece c'è un servizio che si occupa esattamente di queste cose, cioè di andare a ripulire le scene del crimine al posto dei parenti. È un servizio complesso, sono cose da approfondire, non è poi così semplice. Ma perché per Christian le autorità hanno considerato solo un semplice suicidio? Quando verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Christian verrà ancora denunciato come suicidio, però non identificato, nel senso che comunque la dinamica non è ancora ben chiara. E poi c'è un altro fatto da non trascurare assolutamente. Sempre nell'autopsia verrà trovata una piccola frattura caranica sulla testa di Christian, sul lato destro e anche una frattura al naso. Queste due lesioni erano state fatte prima della sua morte. Forse che Christian allora era stato attaccato prima di essere ucciso? E poi c'è un altro punto importante da considerare. Durante l'autopsia verrà trovato sul polpaccio di Christian un grande ematoma. Quei tipi di ematoma che avvengono solo quando la parte in questione è rimasta schiacciata per lungo tempo in una posizione in cui il sangue non circola. Questi lividi però si formano soltanto quando il sangue non pompa più all'interno del corpo e quindi si ha veramente, si ha una stasi del sangue in quel punto lì. E dunque il sangue tende a riversarsi verso il basso. Ma questa cosa com'è possibile che sia avvenuta sul corpo di Christian quando invece le parti esposte che mostrano questo ematoma sono verso l'alto? La deduzione è che il corpo di Christian sia stato spostato dopo la sua morte. Ma come abbiamo già visto, così come è avvenuto sia per la maglia insanguinata che per il coltello trovato in cucina, anche qui le autorità sorvoleranno. Ora saranno sentiti ovviamente le persone a lui più vicine, quindi chiameranno per essere interrogati Dylan e Whitley. E le loro linee temporali non hanno alcun senso, ma comunque nessuno sembra mettere in dubbio la cosa. Dylan avrà una dichiarazione molto lunga e particolare da fare. Dylan dirà di essere partito alle 3.45 del mattino del 26 febbraio per andare a prendere Christian al momento in cui sarebbe attraccata la sua nave a New Orleans. Questo succede intorno alle 8 del mattino e sulla via di ritorno per Meridian, Dylan dirà di venire a conoscenza del fatto che Christian e Whitley hanno dei problemi. Ma Dylan dice di non avere nessuna idea del motivo per il quale Christian sta tornando a casa. Ma non era Dylan che aveva comunicato al telefono a Christian di tornare a casa perché Whitley stava esagerando. Andava in giro col suo eBMW e una persona di dubbi affari. Sembra sia uno spacciatore. Ora, perché Dylan omette questo dettaglio e dice di non sapere nulla? Amici miei, a questo punto vi dico che questa non è e non sarà né la prima e nell'ultima incongruenza di Dylan. Ora cercate bene di seguire le dichiarazioni perché saranno dette e poi smentite, ritrattate, ci sarà davvero un bel pasticcio cui star dietro. Dunque, Dylan dirà che quando sono arrivati all'appartamento di Christian, lui e Whitley inizieranno una discussione davvero brutta. Dirà che Christian è salito le scale e due avevano iniziato ad urlare. Poi pensate, Dylan era salito piano piano sulle scale e aveva sbirciato un po' la litigata dei due amici. Dice che a quel punto ha notato che Christian si puntava un'arma alla testa e che continuava a chiedere Whitley se lo amava ancora. Pare poi che la situazione ad un certo punto si calmi e i tre si metteranno sul divano tranquillamente a guardare un film. Pensate già quanto è strana la dinamica di tutta questa faccenda perché Christian viene recuperato al porto da Dylan che lo vuole portare immediatamente a casa perché Whitley sta facendo delle cose bizzarre e lui pare voglia troncare la relazione. Poi arriva lì e Dylan dichiara che è Christian che vuole togliersi la vita e che teme di non essere più amato da Whitley. Ma Christian aveva già deciso di interrompere quella relazione. Qualcosa non torna. Poi ad un certo punto si offrirà di andare a comprare del cibo per tutti e tre e così lascerà Whitley e Christian da soli a chiacchierare e insomma a chiarirsi. E ad un certo punto della sua uscita andrà anche in banca e cercherà di svuotare il conto di Christian. Perché pare sia stato lui a chiederglielo. Ma perché Christian avrebbe dovuto dire a Dylan di andare in banca e svuotare il suo conto. Questa richiesta non aveva proprio alcun senso anche perché Christian aveva intenzione quello stesso pomeriggio di rientrare a lavoro. Non gli servivano dei contanti per fare 30 giorni su un rimorchiatore marino. Comunque ci sono i filmati delle videocamere che mostrano Dylan allo sportello mentre cerca di prelevare il denaro. Sì, dico cerca perché non riesce, non può, non ha gli accessi. Si offrirà anche dopo questo evento, cioè prima è andato a comprare del cibo per tutti, poi è andato in banca per cercare di svuotare il conto di Christian e ora si è offerto anche di andare a far riparare il telefonino di Whitley che si è rotto durante una discussione avvenuta tra lei e Christian. Valutiamo ora le dichiarazioni di Dylan. Dylan ha ammesso che ha tentato di ritirare tutti i soldi di Christian. Valutiamo ora le dichiarazioni di Dylan. Dylan ammette con le forze dell'ordine di aver fatto un tentativo di prelievo in banca dei soldi di Christian ma non essendoci riuscito cosa fa? Non chiama Christian che è il proprietario del conto ma chiama un suo amico. Poi dice di essere andato a riparare il telefonino di Whitley e di essersi diretto a casa. A casa la situazione era tranquilla, era calma, dunque si sono rilassati e hanno visto un altro film. Dylan poi deciderà di fare un pisolino di un paio di ore. Dice che Whitley è in una camera da letto che dorme e Christian è di sotto seduto sul divano. Va a fumare una sigaretta. Poi, non se ne capisce il motivo, restituisce la pistola a Christian che sembra gli avesse tolto durante la discussione. Quando le autorità gli chiederanno perché mai ha ridato la pistola a Christian, lui risponderà semplicemente che non poteva portarla con sé. Tutto lì. Allora, la mia domanda è come fai a rimettere in mano un'arma a una persona che fino al minuto prima voleva usarla contro se stesso? Forse perché voleva che la usasse. comunque Dylan racconterà di essere andato poi in un negozio, forse lo stesso dove voleva riparare il cellulare per informarsi su degli autoparlanti che voleva acquistare e poi farà ritorno di nuovo all'appartamento. Quando arriva però nell'appartamento pare non esserci nessuno ma... vede la luce accesa nel piano di sopra e precisamente nel bagno così si deciderà andare a controllare. Forse Christian si stava facendo una doccia. Quando arriverà sopra busserà la porta per chiedere se andava tutto bene. Non otterrà risposta quindi tornerà al piano di sotto, cercherà Whitley e le chiederà di andare insieme a lui a controllare Christian che in bagno non risponde. Ovviamente quando i due apriranno la porta troveranno il corpo di Christian così come ve lo abbiamo descritto nella posizione di prima e con tutto il sangue intorno. A quella vista pare che Whitley abbia urlato disperata e si è corsa via lontano dal bagno. Riassumiamo numericamente i racconti di Christian. Fa un riposino di due ore, poi vede due i film. Vediamo. Circa cinque ore via. Ha raccontato di essere venuto via alle 11 e 30 dal porto. Ma se si calcola qui l'orario, i pisolini e i film siamo già alle 4 e 30. Le 4 e 30 è l'orario in cui Dylan ha chiamato le autorità. Tutto questo non lascia spazio per l'operazione della banca, giusto? Ci vuole tempo no? Per andare in banca, prelevare. Poi abbiamo la dichiarazione di Whitley che riguarda effettivamente solo la loro relazione. Christian stava pensando di interrompere quella relazione perché non aveva più fiducia nella ragazza. L'aveva vista troppo immatura, sapeva che frequentava anche Matt e quindi non si sentiva più di stare con lei. Dirà che la notte del 25 febbraio non sapeva che Christian sarebbe tornato, non le aveva detto che avrebbe lasciato il lavoro per tornare a casa. Però lei a quel punto non menzionerà affatto che avessero avuto poi una discussione. E se ci pensate bene questa dichiarazione è abbastanza congrua con quello che è realmente successo. Anche perché Christian non l'avrebbe comunque avvisata del suo rientro. L'aveva fatto solo perché incentivato da Dylan e dal fatto che lei stesse facendo troppe sciocchezze. Il bello è che Whitley dirà anche che non c'era nessuna pistola e nessuno stava minacciando di togliersi la vita. Dirà anche che sapeva che il rapporto che aveva con sua mamma non era dei migliori, però lui non ci poteva fare niente. Insomma, Whitley non racconta niente di quello che stava dicendo Dylan. Non racconta della litigata quando Christian è arrivato a casa, non racconterà del fatto che abbia minacciato di sciogliersi la vita con la pistola, non menzionerà il fatto che abbiano visto un film. Niente di niente. Dirà soltanto che Dylan l'ha chiamata per andare su a controllare nel bagno dove poi troveranno Christian. Quando la polizia le chiederà se Christian ha mai menzionato la possibilità di far del male a se stesso, Whitley risponderà non credo. Questo smentisce l'altra parte di racconto di Dylan che aveva detto che Christian aveva preso la pistola, se l'era puntata addosso e aveva ripetutamente chiesto a Whitley se lo amava. Lei però confermerà esattamente il contrario. Dirà che non ha sentito nessuno sparo. Ora, se due sono complici, possibile mai che non si confrontino neanche per le dinamiche, i loro alibi, ma andiamo avanti per capire. I tre, quindi Whitley, Dylan e il corpo di Christian verranno sottoposti all'esame del test della polvere da sparo che praticamente funziona così. Durante lo sparo di un'arma da fuoco, la notevole pressione e temperatura del gas di combustione all'interno della canna di una pistola, da un lato produce ovviamente la fuoriuscita del proiettile, ma dall'altra provoca delle piccole reazioni chimiche sulle particelle della polvere da sparo. Queste vengono proiettate ogni volta che si spara. Nelle cartucce di solito si trovano due tipi di polvere da sparo, la polvere di innesco e la polvere di lancio. In parole povere, lo sparo di un proiettile avviene sia per reazione chimica che per reazione meccanica. Ma lasciamo da parte ora questi dettagli forse un po' troppo tecnici e vediamo che cosa è successo. Dunque, siamo rimasti che i tre vengono sottoposti all'esame della polvere da sparo e proprio in quel momento Whitley farà sapere già da subito che lei non lo supererà quell'esame e il motivo è semplice. Guarda caso, la sera precedente era stata a sparare con degli amici. In pratica, al 25 sera era uscita con Matt e Jet, scusate i nomi ma così si chiamano, cugino, per andare a sparare perché Jet aveva acquistato una pistola nuova e voleva provarla. Ora, anche se sembra una scusa, ammettiamo per un momento che sia così, che Whitley sì ha sparato, ma la sera prima e con degli amici. Solitamente la polvere da sparo rimane sulle mani dalle 4 alle 6 ore, a patto che comunque con le mani non ci si facciano troppe cose. Ora, che cosa sta comunicando con questa dichiarazione secondo voi Whitley? Che lei in 24 ore non si è mai lavata? Che lei in 24 ore non ha toccato nulla? Eppure aveva dormito con il cane? Non ha toccato neanche il cane? Matt, il ragazzo che lei vedeva all'insaputa di Christian e che avrebbe sparato la sera prima con lei? Bene, Matt circa due settimane dopo si farà avanti e farà una dichiarazione. Dirà che lui e Whitley, sì lui la conosce, ma non la sente spesso. Matt dirà che è una pazza scatenata e che in fondo non è che si frequentassero così tanto. È capitato così che due sere prima si fossero scritti attraverso Snapchat. Non so se la sapete, è una sorta di social network un po' tra Instagram e TikTok, dove i messaggi, video scritti che vengono mandati, dopo che vengono visualizzati, si cancellano. In ogni caso, Whitley ha contattato attraverso Snapchat Matt per incontrarsi e fare due chiacchiere. Quindi Matt interrogato confermerà ciò che sta dicendo Whitley. Insomma, Christian muore il 25 febbraio. Lei pochi giorni prima incontra Matt, con il quale forse aveva anche una relazione, ed esce insieme al cugino e si vanno a divertire e a sparare. E poi, però, c'è una parte di questa serata che farà davvero ribaltare la situazione. Sì, perché in realtà Whitley quella sera non spara affatto. Dice che era terrorizzata e sarà Matt a dichiarare questa cosa. Lei non ha preso mai mai la pistola tra le mani. Anzi, era così infastidita dal suono che procurava, che Matt le aveva messo addirittura le mani sopra le orecchie, per impedire che il suono troppo forte le desse fastidio. Passeranno poi la notte insieme e, intorno alle 7 della mattina successiva, lei sarà riportata a casa di Christian. Poi Matt lavorerà tutto il giorno e, una volta tornato a casa, saprà da Jet, il cugino, che Christian era morto. A quel punto aveva chiamato Whitley per cercare di capire cosa diavolo fosse successo. La ragazza non risponde e, se vi ricordate, forse c'è un perché. Perché Whitley aveva ancora il cellulare rotto, che era andato poi Dylan a farglielo aggiustare. Così, così Matt chiamerà una ragazza di nome Alice, che anche lei frequentava Whitley, per cercare di capire un po' cos'era successo, se lei era informata della situazione. Sarà lei a comunicarle che sì, Christian è stato trovato morto nel suo bagno. Gli farà sapere che Christian aveva saputo che Whitley stava uscendo proprio con lui e che Christian era tornato dal lavoro per discutere della questione con Whitley. Questo contraddisce Whitley, che aveva detto agli investigatori di non aver sentito nessun sparo. Matt, dopo questo evento, cercherà di evitare Whitley. Invece lei cercherà di contattarlo. Dunque Matt, una settimana dopo, decide di sistemare questa situazione e la contatterà. Le chiederà spiegazioni. Cambierà versione. Dirà che non era stata lei a trovare il corpo di Christian, bensì Dylan. E soprattutto, non si era svegliata per lo sparo. Aveva raccontato a Matt che Christian si era sparato alla gola, invece. Si era sparato alla testa. Ragazzi, c'è confusione, stateci dietro. Lei dirà che Christian aveva minacciato di togliersi la vita. Altra contraddizione. Agli investigatori aveva detto che lui non credeva avesse cercato di farsi del male. Ci sono delle dichiarazioni che dimostrano l'originalità dei fatti. Ma i messaggi di testo fanno scoprire una storia completamente diversa. Poi pare che Whitley avesse chiamato per tutto il giorno del 26 febbraio Matt, però sendo senza cellulare, lo aveva fatto proprio con il telefono di Christian. In quella telefonata, Whitley chiedeva disperatamente a Matt di andare a prenderla, perché stava litigando furiosamente con Christian e voleva allontanarsi da lui. Però sappiamo che Matt in quel momento stava lavorando, dunque è impossibile che abbia potuto chiamarlo. E in più, se Christian era a casa così come in effetti era, figuriamoci se gli avesse permesso di chiamare proprio Matt. Forse sì però, se lei avesse detto che doveva magari chiamare sua madre per comunicargli qualcosa. Ma anche questo sembra un pochettino dubbio, perché l'appartamento era talmente piccolo che se Whitley avesse chiamato Matt, fingendo che invece fosse la madre, lui se ne sarebbe accorto, perché le telefonate si sentivano, lo spazio era davvero ridotto lì dentro. Pensate che quando Whitley sarà interrogata al dipartimento di polizia, lei ha ancora con sé il cellulare di Christian e quando gli agenti le diranno che deve consegnarlo, lei si rifiuterà addirittura, fino a quando la minacceranno di non lasciarla più uscire. Ad un certo punto sarà costretta a farlo. Pensate, si verrà addirittura a sapere che quando Whitley scoprirà il corpo di Christian all'interno del bagno insieme a Dylan, avrà il coraggio di prendere un pacchetto di sigarette dai suoi pantaloni e di fumare. Dunque Whitley non appare proprio una ragazza distrutta dal dolore e affranta per quella perdita, proprio per niente. Torniamo per un attimo al test della polvere da sparo. Come era ovvio Dylan e Whitley non lo passeranno, ma se Whitley aveva già dato le sue motivazioni, anche se dubbie, Dylan non farà mai nessuna dichiarazione in merito, non saprà spiegare il perché a tela polvere da sparo nelle mani. Pare proprio sia davvero una prova che i due hanno maneggiato la pistola che ha tolto la vita a Christian, però nessuno farà niente a riguardo. Entrambi i ragazzi sarebbero dovuti essere incriminati, ma questo non avviene, pare insufficienza di prove. Dylan ha dichiarato di aver maneggiato la pistola nel momento in cui l'ha tolta Christian, ma la pistola fino a quel momento non aveva ancora sparato, giusto? Le domande sono molte perché molte sono le incongruenze, sia in fatto di racconto dell'accaduto, sia in fatto proprio temporale. Ricordiamoci che Dylan aveva chiamato Christian per farlo tornare a casa subito per via del comportamento di Whitley. Christian, una volta tornato, muore. Dylan cercherà di andare a ritirare tutti i suoi soldi. Qualche dubbio ti viene? Sappiamo che l'auto di Christian era parcheggiata a Wicksburg, un porto giù a Magnolia. Eppure, alle prime ore del 26 febbraio, quell'auto viene spostata e non è stato Christian a farlo. E poi mancava una cassetta con 7 mila dollari al suo interno. Possibile che Christian si sentisse più sicuro a tenere dei soldi in auto in un parcheggio che non era custodito perché, se vi ricordate, vi abbiamo detto che il cancello era sempre aperto, piuttosto che lasciare quei soldi a casa con Whitley. E poi chi poteva averli presi, quei soldi? La stessa persona che forse era potuta entrare in macchina e utilizzarla mentre Christian non c'era. Comunque qualcuno che aveva la chiave. Purtroppo nel parcheggio non ci sono telecamere di sicurezza, dunque nessun filmato potrà aiutare nelle indagini. La famiglia, per fare chiarezza, su questa indagine che quanto pare viene lasciata un po' a se stessa. Vi ricordate? Erano stati proprio loro a trovare quella maglia insanguinata nel bagno dietro al water e oltretutto un coltello sporco di sangue in cucina. A questo punto hanno capito che le autorità non stanno facendo bene il loro lavoro e quindi si rivolgeranno a un certo Jonathan Arden, che è un patologo forense, che ha una fama mondiale. Arden confermerà che la posizione del corpo di Christian non era per nulla in linea con la dinamica di un suicidio. E la pistola era tra il suo corpo e la parte esterna della vasca da bagno e anche questa dinamica non coincida assolutamente con una persona che si spara un colpo alla testa. Perché la pistola, sparando, avrebbe creato un rinculo e mai e poi mai si sarebbe dovuta trovare in quella posizione. Un'arma semiautomatica appena premi il grilletto spara. Ma per sparare di nuovo ha bisogno di essere ricaricata. Invece la pistola trovata vicino a Christian era come se avesse esploso il proiettile e qualcuno avesse ricaricato il cane. Ma se Christian era morto come aveva fatto manualmente a ricaricare quell'arma. In più poi c'è il foro nel muro che non è in linea con il corpo di Christian. Dopo lo sparo il proiettile avrebbe dovuto rimbalzare contro la vasca da bagno e non trovarsi a quell'altezza vicino all'interruttore della luce. Arden esaminerà tutte le foto dell'autopsia e anche lì troverà molte molte incongruenze. Il rigor mortis presente nel corpo di Christian dichiarava che era morto da molte ore e questo andava a sbattere contro le dichiarazioni di Whitley e Dylan. E di nuovo nulla torna. E poi vi ricordate che vi abbiamo detto che ci sono dei grumi di sangue rappreso sul corpo di Christian e questo avviene soltanto quando il cuore non pompa più sangue nel corpo e il sangue si accumula proprio dove trova un ostacolo. Quindi come abbiamo già detto quella chiazza sul polpaccio di Christian dimostra solo che era morto prima di essere messo in quella posizione. Il patologo dunque presi tutti gli atti e gli incartamenti firmerà che la morte di Christian è avvenuta per omicidio. Ma perché allora se Jonathan Arden ha ragione la polizia di Meridian non ha mai preso in considerazione il caso come omicidio? Perché? Il dipartimento questo proposito non rilascerà nessuna dichiarazione. Tre anni dopo, perché sì sono passati ormai tre anni e dopo che soprattutto la famiglia ha raccolto una serie di nuove prove, la polizia di Meridian ha sostituito il capo James Lee. Il capo della polizia entrante quindi dovrà riguardare tutti gli incartamenti e le documentazioni che riguardavano questo caso e pare che anche per lui non si trattasse di suicidio. A questo punto ci saranno due mandati di arresto, ovviamente uno per Whitley e uno per Dylan, ma il bello arriva qui. Nonostante questi mandati attivi i due rimangono sì in custodia, ma liberi. Ma perché in un certo senso rimangono liberi? Questo succede a causa del nuovo capo della polizia di Meridian. Ha chiesto che le accuse di omicidio siano ridotte a omicidio colposo, a negligenza colpevole, sostenendo di non avere prove sufficienti per un'accusa di omicidio in un'udienza preliminare. Il giudice R. Jones e la famiglia di Christian hanno rifiutato questa decisione. Fatto sta che queste sentenze non sono mai state applicate. Quindi nonostante i mandati di arresto, i due non vengono arrestati e durante un'inchiesta giornalistica Whitley dichiarerà che il suo mandato e quello di Dylan non sono attivi. Dunque la famiglia aspetterà che il procuratore generale degli Stati Uniti renda attivi questi mandati. Tuttavia si arriverà al 2018. Il procuratore distrettuale della contea di Lauderley, Jesse Coleman, che ha rilevato appunto il caso nel 2018 quando l'altro comandante aveva lasciato il posto, afferma proprio che le prove puntano tutte da un'altra direzione. La Coleman dirà che ci sono state numerose altre indagini portate avanti da agenzie private. Agenzie che sono state contattate dalla famiglia di Christian e che sono state anche pagate di tasca loro. E queste arriveranno ad una conclusione, ovvero suicidio. Praticamente siamo di nuovo punto a capo. C'è chi si convince che questo non sia un suicidio e invece poi la cosa viene subito praticamente ritrattata. Nonostante tutte le prove dimostrano il contrario. Le incongruenze però non finiscono qui. Sull'impugnatura della pistola che Christian avrebbe usato per togliersi la vita non ci sono le sue impronte. Dunque, com'è possibile che Christian si sia sparato e che sull'arma non ci siano le sue impronte? E oltretutto, anche quando è stato fatto il test sulla polvere da sparo sulla sua mano, soltanto Wheatley e Dylan non l'hanno passato. Lui non aveva, Christian non aveva polvere da sparo nelle mani. Pare proprio dunque che sia le forze dell'ordine che queste agenzie private stiano facendo davvero un gran pasticcio. Ma è possibile, secondo voi, così tanta incompetenza o c'è qualcuno dietro che sta manovrando tutta l'indagine? Che idea vi siete fatti? Pensate, quattro anni dopo la morte di Christian verrà assegnato un nuovo capo della polizia, un certo Benny Dubas. Ma qui ci poniamo un'altra domanda, è doveroso porsela. Come mai ci sono così tanti cambi negli altiranghi delle forze dell'ordine? Comunque sarà lo stesso Dubas, il nuovo capo della polizia, che affermerà proprio che molte cose non avevano proprio senso in questa indagine. Oltre al fatto, come abbiamo detto, che non ci siano le impronte digitali sull'arma usata da Christian per togliersi la vita, Dubas sottolinea il fatto che il bagno era molto pulito, troppo pulito per essere una scena del crimine, per essere un luogo in cui qualcuno si era sparato la testa. Era evidente che qualcuno aveva pulito. Per lui la scena del crimine a questo punto è stata davvero manomessa e si prende la responsabilità dei propri agenti che non hanno lavorato nel modo più consono possibile. Le foto della scena del crimine erano veramente pessime. Dalla foto di una scena di un crimine si possono capire molte cose. Bassa risoluzione, fatte male, sembravano essere state prese da un cellulare. Ma torniamo a Cassie Coleman, procuratore distrittuale. Sempre nel 2018 confermerà le teorie di Dubas in quanto secondo loro le forze dell'ordine non hanno assolutamente fatto bene il loro lavoro. Vi ricordate che non avevano raccolto nessuna prova? Il bagno era la scena di un crimine dove non erano state raccolte prove. Due prove, un coltello insanguinato, una maglia insanguinata, entrambe raccolte e consegnate dai genitori di Christian. Ora però delle analisi effettuate sul coltello e sulla maglietta non se ne sa nulla. Ad agosto 2020, dopo che questo fatto è diventato virale e conosciuto un po' ovunque, il rapporto investigativo del capitano Joe Arlington del 2017 è stato reso pubblico. Questo fa ben sperare alla famiglia che il caso possa essere riaperto, perché forse come sapete in alcuni casi soltanto quando ci sono delle prove indiziarie che non sono state presentate precedentemente all'interno di un processo, si può tentare di richiedere l'apertura di un caso già chiuso. Ovviamente quel rapporto non si sa perché non era stato mai presentato, dunque fa ben sperare. Oltretutto non siamo a conoscenza di cosa ci sia in questo rapporto del 2017 e forse chissà lo scopriremo più avanti. Ovviamente la famiglia Andreacchio ha perso completamente la fiducia nelle istituzioni, d'altronde è come dargli torto. Si vogliono battere per evitare che le foto che vengono effettuate durante l'autopsia vengano rese pubbliche. Eh sì, perché purtroppo per Christian le foto dell'autopsia sono state rese pubbliche senza il consenso della famiglia e per loro questo è stato davvero un affronto, una cosa molto molto rispettosa nei confronti del loro dolore. E Wheatley? Che fine ha fatto? Già vi vedo a digitare sulla barra di Google Wheatley Goodman ultime notizie. State comodi, rimanete comodi, ci sono qui le crime per questo. In questi anni la ragazza non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni in merito al fatto al quale state coinvolta. Wheatley ha solo fatto sapere quanto sia cambiata la sua vita dopo quella faccenda. Fatica a mantenere un lavoro e ha cambiato il suo look per rendersi meno riconoscibile. Anche Dila deciderà di non rilasciare alcuna dichiarazione in merito e al momento pensiamo faccia tranquillamente la sua vita senza alcun problema. Ci auguriamo che questo caso possa avere una riapertura e se volete vi terremo informati in futuro su cosa capiterà perché è quasi certo che Christian non si sia tolto la vita. E voi cosa pensate riguardo? Ogni storia che vi raccontiamo ha un nome e il nome è quasi sempre quello della vittima. Oggi è Christian, Chris, al quale diamo voce perché ricordatevi che rubrica notturna nasce nel rispetto di tutti per dare voce a chi non l'ha potuta usare. Per ora vi ringraziamo di essere stati presenti e di aver partecipato alla maratona. Ovviamente noi vi aspettiamo domani con la seconda puntata della maratona rubrica notturna che vi ricordiamo vi terrà compagnia per tutta la settimana. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine. Nico vi ringrazia e vi do appuntamento alla maratona. Devi dire, alla prossima maratona! Le Grimber chiudono qui, un grosso saluto e occhio alle stranezze.